Cari soci, cari clienti e collaboratori della Cassa Rurale di Treviglio, mancano ormai poche ore alla Santa Pasqua. Sarà una Pasqua particolare, vissuta in un clima diverso rispetto agli scorsi anni a causa del problema del coronavirus che sta affliggendo un po' tutti. Ma occorre più che mai sperare, avere fiducia, serve uno sguardo attento e non superficiale. Occorre la capacità di tutti di cogliere i piccoli segni di speranza che cominciano ad intravedersi. Auguro a tutti voi che la Pasqua porti serenità e gioia nelle case di ciascuno. Tanti auguri dalla BCC Treviglia.